Il principe Andrea a trascinare la famiglia reale più in profondità nel pantano sarebbe stato inaccettabile per il principe Carlo e il duca di Cambridge, ha affermato un importante commentatore. Robert Jobson ha affermato che i reali senior hanno fatto pressioni sul duca di York per porre fine alla causa civile statunitense intentata da Virginia Juffer. Ha detto, non avrebbe potuto trascinarsi in un anno giubilare. Con i giornalieri che sono usciti dai tabloid, risultando in un caso giudiziario molto dannoso. La sua reputazione è comunque piuttosto danneggiata. Penso che trascinare la famiglia reale sempre più in profondità nel pantano sarebbe stato inaccettabile per personaggi del calibro del principe di Galles e del duca di Cambridge. Avrebbero messo in chiaro che un accordo sarebbe stata l'opzione migliore. Punto punto. Alla domanda se il duca di York sarebbe stato messo sotto pressione per risolvere il caso dall'interno della famiglia reale, Jobson ha detto a LBC, indubbiamente, ci sarebbero state molte persone che avrebbero pensato che questo fosse andato troppo oltre. Credo che volesse continuare a difendere questa affermazione e sentiva di non aver fatto nulla. Sono sicuro che avrebbe voluto riabilitare il suo nome, ma la realtà è che questo sarebbe diventato atroce andando avanti nel anno giubilare e sarebbe anche estremamente dannoso, irreparabile in termini di rapporto tra la monarchia britannica, la Gran Bretagna e l'America. L'accordo del duca di York, che sabato compie 62 anni, include un pagamento non divulgato alla signora Juffer che lo aveva accusato di aver abusato sessualmente di lei quando era un adolescente. Andrew ha strenuamente e ripetutamente negato le accuse. L'accordo rivelato martedì in un deposito del tribunale di Manhattan affermava che non aveva mai avuto intenzione di diffamare il suo personaggio. Gli avvocati del principe in precedenza avevano accusato la Juffer di cercare un giorno di paga con una causa infondata. La risoluzione del caso ha sollevato interrogativi sul ruolo futuro del duca all'interno della famiglia reale.